we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e mamma mia mamma mia ragazzi ma che ve lo dico a fa ma che ve lo dico a fa le novità nel video di oggi sono davvero incredibili come sapete ieri finalmente spero che tutti voi siate riusciti a sbloccare la skin rovina e a cominciare a fare le prime sfide per sbloccare lo scudo e ovviamente anche il piccone ma quello che è sulla bocca di tutti ovviamente ragazzi è la runa apparsa a sponde del saccheggio per questo io do il via alle run news le news sulle rune ogni giorno ragazzi nei video se ci fossero degli aggiornamenti voi sarete i primi a saperlo saperli e oggi ne abbiamo davvero parecchi ma parliamo anche se abbiamo tempo della nuova skin di pasqua una delle tante nuove skin che sta che stanno per arrivare e anche informazioni sull'inferno pack il nuovo bundle che prestissimo sarà disponibile nello shop prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi la domandina raga la la domandina ve la devo fare ed è una domanda molto interessante i vostri commenti qua sotto ci tengo a leggerli e ci tengo a leggerli ma secondo te quale sarà il tema della season 9 ragazzi ci siamo e siamo agli sgoccioli oramai due settimane finiscono le settimane per le sfide e poi si entra nella season 9 quale sarà secondo voi il tema la trama secondo me c'entreranno i robot c'entrerà la tecnologia lo so ragazzi non lo so voglio sapere invece voi cosa ne pensate sono troppo troppo curioso ma quindi ciancio le bande in bando alle ciance non vi faccio vedere niente ma vi faccio vedere un video guardiamo insieme il momento dell'apparizione della runa a sponde del saccheggio con il drone non si riesce ad andare in questo video sotto ma più avanti vi faccio vedere qualcosa più tardi nel video runa che con una luce arancione illumina una porzione di quella che sembrerebbe essere un oggetto non identificato lo lo capiamo benissimo perché ci sono le società segrete che stanno investigando le stesse identiche società presenti nella season 4 quando ci fu il meteorite quindi eccola qua ragazzi la runa per chi non avesse visto in tempo reale l'apparizione lo avete appena fatto runa ragazzi che ovviamente ha cominciato a creare mamma mia tonnellate e tonnellate di post su reddit instagram twitter la community di fortnite perché qualcosa sta cominciando ad accadere l'evento sneaky lake che vi abbiamo che vi ho già detto ieri facendo vedere anche qualche porzione di codice qui abbiamo una panoramica dell'oggetto io lo chiamo oggetto non identificato portale forse è meglio chiamarlo portale lì a sponde del saccheggio e come sono cinque le porzioni che molto probabilmente vedremo animarsi nel corso di questi giorni ma c'è una curiosità davvero davvero incredibile questa immagine ragazzi un utente non si sa se per un bug grafico o per qualcosa ma se qualcuno di voi l'ha vista me lo scriva qua nei commenti ha fatto la fotografia al suo schermo quindi è una foto totalmente reale dell'apparizione di una seconda runa che però è rimasta per pochissimo e correggetemi se sbaglio mi sa che in questo momento la runa non è più presente in game io non ho avuto modo di guardare ma ho letto che appare e poi scompare insomma ragazzi qualcosa di davvero particolare ma cominciamo a capire un po qualcosa su sull'oggetto e sulle rune innanzitutto eccola qua la vista dall'alto dell'oggetto non identificato come vedete nella prima porzione è apparsa la runa numero uno probabilmente nella posizione alla sua immediata sinistra potrebbe apparire la runa numero due quella che avete visto poco fa ma questo che sto facendo vedere che non è un disegno fatto da me sebbene io sia abbastanza a questi livelli di disegno è un file presente nei codici sorgente e relativo all'attivazione di qualcosa nell'evento del loot lake dello sneak leaky lake sponte del saccheggio in poche parole voglio farvi vedere anche quest'altra immagine che è la più interessante che è anche questa presente nelle stesse cartelle dell'evento e il team di epic games lo chiama hi quindi vorrebbe dire occhio ok voglio però delucidarvi un po di più con questa immagine che è non con questa con quella dopo questa ragazzi è un'immagine dove si sono riusciti a dove sono riusciti ad andare con il drone dietro alla porzione dell'oggetto in sponde del saccheggio e come vedete questa immagine questo questo questa specie di triangolone che sembra l'africa in poche parole è il disegno che vi ho fatto vedere prima mentre la dove c'è quella cosa rotonda è l'occhio ma questa è l'immagine che vi potrebbe un pochettino aiutare a capire sopra di me nascosto dal mio logo fa niente c'è un'altra immagine trovata nei file di gioco che ricalca proprio questa porzione e come vediamo indicato da questa freccia bianca ogni porzione di oggetto ha un occhio che si attiva tra l'altro è successo ad alcune persone che aprendo la mappa vedessero la parte centrale di sponde del saccheggio azzurra quindi attivata e anche delle porzioni di colore bianco quindi attivazione completa e come vedete ragazzi tutte le immagini che vi ho fatto vedere vanno a ricalcare appunto quello che sta per succedere quindi sappiamo che è animata queste invece sono tutte le rune che vedremo nel corso di pro tutte le rune che vedremo nel corso di questo evento non sappiamo quanto duri io non penso durerà più di sette giorni con tutto quello che dovremo vedere secondo me nella prossima settimana qualcosa di interessante accadrà ovviamente giorno per giorno si scoprono cose nuove giorno per giorno anche voi le saprete abbiamo già perso tantissimo tempo quindi parliamo veloce perso io vi ho detto le cose raga parliamo velocemente dell'inferno pack immagine ufficiale dell'inferno pack trovata nei file di gioco prezzo 19 euro e 99 mille v bucks garantiti quindi alla fine lo pagate 9 99 la figata è che ha dentro anche la skin delle armi e dei veicoli questo è appunto il motivo per cui io lo prenderò sapete che le colleziono e il piccone quindi ragazzi completando le sfide settimana le sfide giornaliere praticamente le sfide della skin inferno consistono nel completare le nostre sfide giornaliere otterremo v bucks skin armi e piccone chiudo molto velocemente con un'altra skin della festività pasquale eccolo qua ragazzi il nostro ninja coniglio o coniglio ninja o coglioni ninja nel senso vedete un po voi come chiamarlo bello notevolmente bello va a formare il tris insieme agli altri due conigli che già conosciamo questo coniglio sarà dotato del backpack che state vedendo che è davvero fighissimo un uovo di colore nero e viola insomma ragazzi stanno accadendo un sacco di cose non è facile starci dietro cerco comunque di dirvele nella maniera più semplice e di farvi capire tutto vi ricordo sempre che per le sfide della settimana 8 trovate i video sul canale anche la posizione dello standardo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto e mezza stamattina in live ciao